Antonio Triplastone, responsabile vendita in melone e peperone Nunens per la Sicilia. Oggi ci troviamo nell'azienda dei fratelli Logiudici a Villaggio Mosè, in provincia dei Grigenti. Qui siamo in una coltivazione di magleri. Notiamo che ci sono le piante in ottimo stato grazie alla loro tolleranza all'oidio. Possiamo notare come la pianta ha legato molti frutti. Sono tutti della stessa pezzatura. Un tappeto di meloni. La sanità della pianta, grazie alla tolleranza all'oidio, permetterà di avere dei frutti di altissima qualità. Tutti frutti di forma sferica segnano la fetta, una bella rete che servirà a mantenere il frutto durante il trasporto. Magveric è una pianta fortemente produttiva, come possiamo vedere dall'alto numero di frutti allegati. Possiamo vedere il frutto internamente color magenta, un rosso profondo e una piccola qualità placentare, un grado brics molto alto. Per qualsiasi informazione potete rivolgervi a me oppure guardare nel sito della Nunez. Grazie.